Luca, io sono il salutatore, ti spiego da tantissimo, tu sei un grande, ti chiedo un saluto per tutti i tuoi fans. Che stanno lì? Stanno lì, ci stanno vedendo. Sei fiducioso? Sì, sì, sì. Sei un ottimista più che un salutatore. Salutiamo tutti i miei fans, ma soprattutto i suoi. E ti ringrazio e una sorpresa per te, aspetta, ho la manina del salutatore. Oh Gesù. E ci sono tanti amici anni 70-80, il gruppo anni 70-80, della tua musica bellissima, oltre che adesso fai lo speaker, possiamo salutare tutti quanti. Salutiamo tutti e se pago riscatto mi rilasci comunque. No, 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 grazie, ciao grande, ciao.